L'altro giorno stavo riguardando alcuni vecchi video che ho fatto tempo fa e mi sono reso conto che ho una playlist intera di video sul risparmio e su come risparmiare e in questi video consiglio delle azioni semplici ma comunque efficaci per risparmiare qualcosina ed effettivamente so che funzionano perché in tanti mi hanno scritto che questi video li hanno aiutati mi sono accorto però che manca qualcosa di molto importante ovvero dobbiamo parlare di tutti quei metodi per risparmiare che semplicemente non funzionano o addirittura ci fanno spendere di più rispetto a non farli e purtroppo molte persone si ostinano a fare queste cose quotidianamente convinte di fare la cosa giusta ma non si rendono conto che stanno facendo un grosso errore quindi se volete essere sicuri di risparmiare nel modo corretto questo video fa il caso vostro iniziamo prima di passare ai punti mi presento per tutti i nuovi mi chiamo pietro e su questo canale parlo di finanza personale quindi metodi per risparmiare per investire meglio e in generale per gestire meglio le proprie finanze se volete vedere altri video come questi sapete già cosa fare cliccate qua sotto e iscrivetevi ok partiamo con il numero 1 e ahimè è uno dei punti più diffusi parlo per esperienza la manutenzione dell'auto intendiamoci subito io non sono un appassionato di auto non sono uno di quelli che se la coccola che la tratta come una bambina anzi dovreste veramente vederla è mezza distrutta esteticamente per quanto riguarda l'interno invece cerco di essere molto attento a mio parere un check up completo dal meccanico almeno una volta ogni due anni o anche di più anche una volta all'anno se la usate tanto è il minimo tutto ciò è vero rappresenta sicuramente una spesa ma vi assicuro che riuscire a individuare i problemi soprattutto di un certo tipo per tempo vi farà risparmiare tantissimo perché altrimenti rischiate che un problema da piccolo diventi via via sempre più grosso e quindi anche più costoso capitano ad esempio delle situazioni dove un danno ad un pezzo alla lunga può danneggiare un'intera sezione dell'auto e quindi nel lungo periodo può portare a spese altissime inoltre se trovate anche un meccanico onesto e di fiducia eviterete poi di doverne cercare uno al momento quando effettivamente andrà a verificarsi il problema probabilmente una situazione dove tra l'altro andreste a spendere molto di più anche perché non siete informati sui prezzi dato che non lo fate mai errore numero due stiamo più o meno in tema fare i chilometri non avete idea di quante volte vedo delle persone che investono anche delle ore del proprio tempo pur di risparmiare pochi euro e qui il tema come sempre si riduce a quanto vale il tuo tempo? se la risposta è poco nel senso che non saprei minimamente come occupare il mio tempo libero allora ben venga ma se anche solo date un minimo di valore al vostro tempo beh evitate di spenderlo in macchina o peggio a piedi per risparmiare qualcosina dalle mie parti è abbastanza comune vedere persone che si fanno 20-30 chilometri per andare negli outlet questi posti mistici dove apparentemente dovrebbero esserci dei pezzi iper scontati con la conseguenza però che non è così il risultato di fare queste gitarelle fuori porta è che hai buttato circa mezza giornata magari del tuo giorno libero che avresti potuto spendere in altri modi più interessanti e due difficilmente dopo aver fatto tutti questi chilometri e aver perso tutto questo tempo ti accontenterai di tornare a casa a me nei vuote e quindi piuttosto prenderai qualcosa che magari non ti va veramente perché in qualche modo devi giustificare la perdita di tempo e tra l'altro non contiamo nemmeno i soldi spesi per il viaggio eh a mio parere uno dei grandissimi vantaggi di internet è che toglie questo fattore chilometri e ci consente di non buttare tempo e soldi le stesse spese di spedizione a volte spingono le persone a prendere la macchina e andare di persona in un determinato posto ma anziché spendere 4-5 euro mi faccio 20 minuti di strada e 20 minuti al ritorno chiediamoci però sempre quanto ne vale veramente la pena? punto numero 3 anche questo oddio mio prodotti usa e getta e no non sto parlando di bicchieri, tovaglioli e cannucce sto parlando di prodotti che in teoria non dovrebbero essere usa e getta ma all'atto pratico lo sono e il motivo è perché hanno una qualità talmente bassa che il loro utilizzo si riduce a 2-3-4 volte ho notato che questa cosa è aumentata in particolare su alcune categorie di prodotti negli ultimi anni in particolar modo i vestiti e ci sono anche dei motivi eh se prima infatti nei negozi di fascia bassa trovavi dei prodotti che sì erano di fattura economica ma comunque indossabili, mettibili, erano decenti oggi anche grazie o per colpa di brand come Shane o come Primark che hanno abbassato ulteriormente i prezzi abbassando la qualità tutti quei negozi che prima erano di fascia bassa sono stati costretti a tagliare un po' i costi e il risultato è che si sacrifica la qualità ad esempio io ho smesso completamente di comprare pantaloni e maglione sotto una certa cifra perché semplicemente notavo che o dopo giusto due lavaggi erano completamente rovinati o iniziavano anche a rilasciare cattivi odori questo magari in base alle tinte che venivano utilizzate e il risultato era che era da buttare e qui facciamoci un conto proprio molto semplice a livello esemplificativo se un maglione economico da 20 euro indossato con regolarità dura due stagioni quindi diciamo due anni e uno più costoso da 60 ne dura magari 6 di stagioni quindi 6 anni la spesa annua è esattamente la stessa si tratta sempre di 10 euro l'anno con la differenza che il primo maglione oltre a durare poco è più scomodo, magari bruttino e vi costringe dopo un po' ad andare per negozi e trovare un sostituto il secondo invece non presenta tutti questi problemi lo stesso vale per moltissimi altri prodotti che utilizziamo spesso dove convinti di risparmiare ci ritroviamo poi con delle ciofeche che alla fine ci fanno spendere anche di più ah e come se non bastasse, io lo aggiungo alla fine come parentesi ma è un elemento abbastanza importante c'è anche l'aspetto ambientale che non sarebbe mai da trascurare punto numero 4 questo molto diffuso perché in questo paese purtroppo tendiamo spesso a fare i tutologi improvvisarsi i professionisti c'è da fare un lavoretto in casa o qualche lavoro in generale ma non ne siete capaci? chiamare qualcuno che sicuramente costerebbe dei soldi e magari anche tanti quindi tanto vale lanciarsi nel fai da te io stesso in certi casi sono per l'arte di arrangiarsi e credo che serva anche un pizzico di manualità ma bisogna contestualizzare quanto tempo ti richiede imparare a fare questa cosa a risolvertela da solo? mezz'ora e magari un video su youtube? allora ci può stare ma se ti richiede un'intera giornata di tempo di prove e di tentativi allora forse no il risparmio in questo caso dovrebbe essere veramente alto per giustificare questo investimento di tempo altro elemento secondo me da tenere in considerazione quante volte ti capiterà di dover fare questa attività questo lavoretto nel corso della tua vita? una? due volte? tutti i giorni? tutte le settimane? in altre parole per capire se ne vale la pena dovete incrociare tempo richiesto per imparare questa attività quindi la difficoltà e frequenza con la quale la fate utilizzate la matrice che vedete a schermo in questo momento per aiutarvi nella scelta se un'attività viene fatta spesso e lo sforzo per impararla è poco allora probabilmente vale la pena farla se invece manca uno dei due elementi allora secondo me bisogna valutare non è detto che convenga investire il proprio tempo in questo modo ma se abbiamo un'attività che faremo una o due volte nella vita e che in più ci vuole un sacco di tempo ad imparare a meno che il risparmio non sia enorme conviene lasciar perdere alcuni esempi? cucinare ad esempio viene fatto tutti i giorni più volte al giorno e a livello casalingo non è nulla di così complicato quindi ne vale la pena gestire i propri investimenti viene fatto regolarmente ma richiede una certa dose di conoscenze ed esperienza per imparare quindi per alcuni può valerne la pena per altri no ridipingere la ringhiera di casa non è super complicato ma verosimilmente lo faremo giusto un paio di volte nella vita quindi potrebbe non valerne la pena e infine organizzare il proprio matrimonio organizzare eventi è difficilissimo il grosso delle persone lo fa una sola volta nella vita quindi qui molto probabilmente non ne vale la pena e infine prima di passare al prossimo punto quando ci si improvvisa professionisti la probabilità di sbagliare dato che non è il nostro mestiere aumenta questo non significa che i professionisti non possano sbagliare ma sicuramente noi sbagliamo più di loro punto numero 5 questo lo sento veramente da troppe persone e spesso è utilizzata come scusa del tipo eh ma cos'è il risparmio piratare scagli la prima pietra chi è senza peccato diceva un tizio un po' più saggio di me però il lo fanno tutti non dovrebbe minimamente giustificare un comportamento costante di questo tipo molte attività se tutte le persone piratassero non esisterebbero il cinema le serie tv il calcio tanto caro a noi italiani i videogiochi i libri la musica o anche il mio canale ad esempio so che questo interessa a molte meno persone rispetto a guardare il Milan però io lo metto qua dentro piratare fa risparmiare? non prendiamoci in giro sì e credo che molti l'abbiano fatto almeno una volta nella vita non volete comprare qualcosa perché lo reputate troppo caro? tanto per cominciare oggi i metodi legali e anche etici fortunatamente esistono le biblioteche ad esempio permettono di prendere film anche serie tv fumetti libri tutto completamente gratis oppure tempo fa ho fatto un video su come risparmiare sullo streaming online tutto completamente legale non è minimamente mia intenzione farvi la morale fidatevi semplicemente vi sto dicendo che questo non dovrebbe essere uno dei modi su cui si fa affidamento per risparmiare qualcosina e poi di nuovo se foste informati su quanto poco si può spendere in certi casi vi lascio il mio video sullo streaming qui in alto probabilmente cambiereste idea punto numero 6 questo per i più nerd come me spesso è terribile ossia confrontare i prodotti a lungo se siete indecisi tra prodotti o servizi che hanno caratteristiche diverse secondo me va bene investire un po' di tempo a capire quale dei due è meglio ecco magari eviterei di arrivare a livelli di quella puntata di The Big Bang Theory dove Sheldon Cooper passa un intero episodio a scegliere tra Xbox e Playstation quello forse è leggermente eccessivo però per tutti quei casi dove invece si è indecisi se prendere il prodotto meno caro o quello più caro il discorso cambia immaginiamo che ci sia un paio di cuffie modello base che costa 50 euro e il modello invece premium, quello con un po' più di qualità, costa 70 euro quindi la differenza sono 20 euro ora diciamo che voi nell'indecisione su quale dei due prendere vi guardate 5 video recensioni, leggete 3 articoli di blog magari andate anche nel negozio a provare entrambi i modelli il risultato è che avete di fatto speso delle ore inutilmente se aveste comprato direttamente le cuffie più care sì avreste speso qualcosina di più ovviamente ma vi sareste risparmiati tutto questo tempo poi esistono delle eccezioni io per esempio ho questa roba malsana che mi piace guardare le recensioni dei televisori giuro non sono pazzo cioè mi piace veramente come attività quindi in questo caso per me non è tempo buttato è proprio una cosa che a me diverte fare per cui quando mi è capitato di farlo per la mia tv e quando mi capiterà in futuro lo farò volentieri un'altra eccezione è se la cifra in ballo è davvero importante se stiamo cercando di capire se spendere 1000 euro in più per la cosa più costosa vale la pena spendere qualche ora a capire se effettivamente ha senso fare questa maggior spesa oppure no quindi il mio consiglio è la prossima volta che sarete indecisi tra la fascia media ad esempio e la fascia alta chiedetevi quanto tempo realisticamente ci metterò a decidere se il tempo è troppo alto rispetto al risparmio lasciate perdere punto numero 7 erroraccio questo l'ho lasciato per ultimo proprio perché secondo me è uno dei punti più importanti e soprattutto per chi è come me appassionato di risparmio la probabilità di fare questo errore è abbastanza alta costringere le persone vicino a voi a risparmiare quando si entra nel loop del risparmio accade una cosa normalissima che presi dalla voglia e dalla foga di risparmiare ogni centesimo anche perché ad alcuni diverte fare questa cosa finiamo per coinvolgere anche le persone vicino a noi amici, familiari, partner e così via un conto è se si è in reale difficoltà economica e qui io l'ho sempre detto non credo ci sia nulla di male nel parlarne apertamente con le persone con cui condividiamo delle scelte economiche raccontare a loro che su una certa cosa siamo in difficoltà secondo me è normalissimo e non c'è nulla di male ma se invece la volontà di risparmiare è una volontà e non un obbligo beh non dovremmo minimamente forzare o influenzare le persone a noi vicino a fare le nostre stesse scelte ognuno dovrebbe essere libero di fare e di spendere quello che vuole quindi quando si tratta di fare delle attività di gruppo o col proprio partner non state a fare i super frugali su ogni cosa perché può risultare fastidioso se l'altra persona non condivide la vostra visione siete liberissimi di raccontarla attenzione non sto dicendo che se il vostro amico vi vuol far fare una cosa iper costosa dovete farla anche voi magari parlategliene, dite che reputate questa cosa troppo cara e trovate una quadra però ecco non fate quelli che no io non spendo nulla lo stesso vale per i regali visto che ci stiamo per avvicinare a Natale nessuno qui sta dicendo che bisogna fare regali iper costosi perché a mio avviso non è il valore economico di un regalo a rappresentare quanto questo sia bello anzi può esserci un regalo economico molto molto figo il senso è che non si dovrebbe partire da qui non va bene regalare robaccia perché si vuole risparmiare si rischia di danneggiare delle relazioni facendo credere all'altra persona che non ci teniamo abbastanza in altre parole per concludere secondo me va benissimo essere dei gran risparmiatori ed essere frugali io stesso lo sono ma quando ci si limita alla propria dimensione individuale se ci sono altre persone coinvolte bisognerebbe abbassare un po' il tiro e niente ragazzi questo era tutto su modi stupidi di risparmiare che in realtà non portano assolutamente a niente ma se ne avete altri come sempre vi chiedo di condividermeli qua sotto perché potrebbero essere preziosi per me per fare dei nuovi video o per altre persone che leggono i commenti quindi vi aspetto qua sotto per oggi è tutto quindi un saluto e alla prossima